Mi trovo a Casalvelino Marina in provincia di Salerno, sto per incontrare la proprietaria della gelateria artigianale Apemai, una gelateria che è presente qui da oltre 20 anni e voglio trarre un bilancio insieme a lei sulla attuale situazione che la sua attività come anche tantissime altre del Cilendro sta vivendo a causa dell'emergenza Covid. La mia attività nasce nel 1999, trattiamo esclusivamente di gelateria artigianale e diciamo che col Covid ovviamente abbiamo avuto molti disagi. Anche oggi essendo una domenica pomeriggio dove si lavorava tanto siamo costretti a una chiusura pomeridiana alle ore 18 e quindi dobbiamo fare i conti purtroppo con le restrizioni che abbiamo sul territorio. Abbiamo rispettato ovviamente i canoni del Covid, quindi abbiamo aperto e siamo stati aperti con servizio di asporto per i clienti ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, cosa che non sarebbe avvenuta in periodi normali dove l'apertura pomeridiana alle 14 e 30 e la chiusura in settimana era intorno alle 20-21 e il sabato e la domenica si prolungava ben oltre questi orari. Però purtroppo il Covid c'è e dobbiamo sottostare a queste regole. Gelato artigianale al 100% con materie prime, quindi spazia in vari gusti. Sì, ovviamente con la frutta possiamo spaziare molto di più, utilizziamo la frutta del territorio, quindi a qualsiasi frutto riusciamo a avere nel periodo della stagione riusciamo a trasformarlo in un gustoso gelato. Per quanto riguarda poi le basi a base di crema, lì si ci affida a ditte di prestigio per poter utilizzare dei semi lavorati che permettono un ottimo risultato. Noi appondiamo molto sul gelato senza lattosio per soddisfare una fascia di clienti che ha questa problematica, che sono anche senza zucchero, quindi vanno a soddisfare anche le esigenze per chi ha problemi di salute e chi ha fatto una scelta di vita sano, poi facciamo semi freddi, su ordinazione le abbiamo anche a disposizione e poi facciamo delle monodosi che richiamano le torte che facciamo.